Buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Siamo ancora in Thailandia, a Bangkok per l'esattezza, e con la piscina io non c'ho ancora mai visto nessuno dentro. Non so nemmeno se siete del nostro hotel o se siete del hotel di fianco in realtà. Comunque stiamo andando a fare cose molto interessanti oggi. E dato che fanno 45 gradi all'ombra, siamo autorizzati ad andare in carottiera. Carottiera e pantaloncini. Qui per muoversi utilizziamo Grab. Solamente che abbiamo scoperto ieri sera che esiste Grab Bike, che invece è tipo un taxi ma su un motorino. Tutto ovviamente senza casco e senza sicurezza. Costa 38. Dato che l'euro qui è 1 a 38, costa esattamente un euro per fare 8 milioni di motorino. Questo ci potrebbe costare la vita? Sì, tu hai visto come guidano? Un po' come a Roma, Napoli, Milano, come in tutta Italia. Vai, decidiamo di morire insieme. Stanno arrivando dei motorini per noi. Che poi tra panetti sì, quello probabilmente costava molto meno. Un'ora di quello sono 2,50 euro. Forse conveniva. Era pure panoramico effettivamente. Dicevo che il cane se la sta panucillando lì, eh. Ho deciso e basta, sono stanco, voglio far bagno e si è messo l'acqua. Oddio, fratello. Oddio. Oddio. Mi sei provato bene, Leo. Mi sei provato bene. Vorrei ripetere col cibulare ma ho un po' di ansia. Lui potrebbe essere il mio uomo. Hai? Let me see. Yeah, it's you. Ok, go slow, eh. Stabba, sì. Ok, l'Italia odio stare indietro. Indietro motorini o qualsiasi altra nota che sia due ruote. Invece lo sto facendo qua. Però è bravo, dai. Sto andando a piano. Ti ho detto di andare a piano, stanno a piano. Oh, ma c'è Utherz qua, raga. Ma cosa stiamo dicendo? Ok, è gentile. Thank you. Ho sudato parecchio. Mi ha messo molta ansia, mi sono tenuto molto forte. Non è che il bro guidava proprio benissimo. Stiamo vendendo un caffettino da Starbucks. Com'è andata? Allora, in realtà manco male. No, il mio non guidava bene, fra. Cioè, il mio non guidava... Sono tutto sudato, fra. Il mio non guidava malissimo. Hai visto che c'è Utherz? Eh, vabbè, dai, zì, qua. Ti pare che non c'è sta Utherz. Comunque, non ho detto, ci sono tantissimi fast food, anche famosi delle catene americane, tipo Taco Bell. Allora, in questo momento stiamo decidendo cosa fare, perché dovremmo andare al tempio, al Palazzo Reale, a un tempio dove c'è il Buddha sdaiato. Il problema è che dobbiamo avere delle mezze maniche e dei pantaloni lunghi per entrare, oppure non ci fanno entrare. Comunque, cosa importante, raccontiamo quello che ci è successo all'aeroporto. Questa è molto interessante da raccontare in questo video. Cosa è successo Giovanni? Quello del Wi-Fi. Quando non ti funzionava. Allora, in breve, quando tu viaggi, la prima cosa che fai quando arrivi è accendere il Wi-Fi dell'aeroporto. Nell'aeroporto di Bangkok c'erano qualcosa come 5, 6 Wi-Fi free, di cui solamente uno era quello reale, e c'erano dei cartelli sul muro che ti dicevano, sto Wi-Fi è vero. E tutti gli altri erano, finti. L'ho aperto uno, ignorantemente, cioè per sbaglio. Posso dirti, si chiamava Official Free Wi-Fi. Ma io che ne posso sapere. E niente, hanno provato a schiamarmi con il Wi-Fi, ma ovviamente me ne sono accorto prima, ma in ogni caso c'era... NordVPN. NordVPN. Bravo, come sempre. Quando vai in viaggio, noi dobbiamo mettere la cyber sicurità al primo posto. Più tardi me ne parlo, è dell'offerta nuova, perché c'era l'offerta, ma ora se dove andiamo, ve la andiamo. Non lo so. Allora, ti dico una cosa interessante, caro Leo. Vai. Ufficialmente, se tu vuoi fare un piano sul NordVPN, è il momento perfetto per iniziare l'anno. Quattro mesi gratuiti, su un piano biennale, e lo puoi ottenere solamente passando al link che ho sotto in descrizione. È l'unico modo, se passi a qualsiasi altro sito, non puoi ottenere questo offerto sul NordVPN. Comunque, adesso, passeggiatina, andiamo a vedere qualche posto tipico. Chiedo che poi a pranzo andremo o al McDonald's o al Burger King per vedere cosa offre. Io in realtà lo so, perché questo video fa parte di uno dei format più amati su un canale, che ormai sono tre anni che lo portiamo avanti. Io qui vado a visitare i McDonald's nel mondo. Tu con me hai fatto qualche McDonald's? Sì, sono andati in America, in Orlando. Noi abbiamo fatto Orlando insieme. Nel mondo quello di Orlando era il più particolare, ma questo McDonald's in Thailandia ha proprio dei piatti tipici, anche il Burger King, hanno dei piatti tipici Thai. Dentro il menu, cioè noi in Italia c'hanno i panzerottini, in America c'hanno le ribs e qui c'hanno un sacco di piatti in realtà. Ecco come fare i turisti così a caso. Metti un punto sulla mappa che ti dice, qui c'è un monumento. Vieni, lo guardi, fai due foto, wow, wow, e te ne vai. Io cammino a caso, metto degli spot ogni tanto dove fermarmi e vado. Per esempio questo è un luogo di pellegrinaggio. Ci si deve fermare, vabbè, per chi è credente ovviamente. Credo che questo sia il nome. Qui c'è tutta la lista prezzi, delle ghirlande, dei fiori, delle cose che puoi comprare per pregare. Serve, serve, serve. Poi all'entrata è stupenda, no? L'uomo di cui tu metti quanto paghi per entrare. Poi c'è il box delle dolazioni. Sai dove stiamo andando in questo esatto momento? No. In fondo c'è il Mac. Iniziamo a mangiare. Quanto ti mancava questo momento? Allora, in realtà dato che siamo a digiuna di tipo luna, un po' di fame c'è. Possiamo dirlo che un po' di fame c'è. Già lo vedo economico, eh. McDonald per Hello Kitty. Allora, io ho visto da fuori che i menu in realtà costano pochissimo. Vediamo. Prendo tutto quello che è diverso dall'Italia. Ok. Questo è il format. Noi andiamo in giro per il McDonald del mondo e prendiamo tutto quello che è diverso dall'Italia. Iniziamo. Pork burger, prospeiti pork burger. Che sono 3 euro e qualcosina. Samurai pork burger, lo facciamo single per sentire i sapori. Ah, ma questo? Truffle burger. Truffle burger lo prendiamo. Questi in Italia non ci sono, eh. No, bello questo. Fryer chicken. Bello questo, lo stiamo prendendo. Però come crispy chicken. Taccino, perché non muovo dai non fritto? Le patatine, carli, vabbè le vertigo sarebbero, ti ricordi? Che cosa è stessa? Che è il Mac Patunghto. Ma prendiamo l'acocassiero. Cioè comunque abbiamo speso 760, eh. Che sono quasi 20 euro. Non si può. Questa è una delle due cose che abbiamo ordinato. Non avere parti che abbiamo ordinato. Ma guarda che bello, non te lo butti. Eh, sicuramente è tematizzato bene. Che io, che io, che io. Ma faccelo un class. Vabbè, abbiamo ordinato un po' di roba pure. Questo è un po' di cigarro. Poi noi c'eravamo intanto degli spicy nuggets che erano troppo piccanti e hanno tolti. Guarda qua. Questa è secondo me la parte più bella di fare video al Mac in Giove del mondo. Noi da italiani non ci aspetteremo mai questo. Allora, iniziamo. Patatine, senza cash, però non andiamo a riempire, ci fai a niente, vabbè. Sono tematizzate? Allora, va, prima. C'è un bonus o un minus? C'è un bonus. E devo dire che piacevano in bocca. Siamo subito a rari dei polli. Non è un po' del male, potete? È gigante, fra. Guarda, c'è questa parte. Buono? Nel mio ultimo video quando ho provato gli spicy del Mac, non si sente il piccante, si sente poco. Mangiate questo e resistete. Mangiate questo. Io non mangio mai piccanti, però frate, mi vuoi mangiare dopo e non mangio nient'altro. Dai, in bel mozzo, è buonissimo, frate. È proprio buono, ha i livelli di un buon porfittore del crepsie, se non di più. Sì, è piccato. È buono? Non mi metto il piccante, non mi piace. Io, di questo in mangiare, è tranquillamente 20. Si è pari a dire che è quello, però, molto buoni. Ha un buon livello, devo dire. Questo è il panino. Quello col porca. Mi hai preso una fetta per il content. Non la sai? Era me per poi, gli nei commenti la sapranno. C'è un secchiore di salsa. Comunque per 20 euro stanno a mangiare l'acqua, eh. Sembra anche buono, a vista. Che salsa è? Super peposa. È tutto pepe. Esagerato o ci sta bene? No. Esagerato. Ma la salsa, quindi è un problema? Tutto. No, questo io lo mangio. No. Ci è andata fastidio? Allora, la salsa, ok. Troppo pepe, che mi pizzica la bocca. Molto dolce, ma pepe cosa lo stesso tempo. Ma io sono una svantata di pepe. Ma il maiale, mi sembra come mangiare un tocco di grasso, pieno in bocca. Frate, non mi piace proprio. Assaggia, prova a finito da te, perché a me fa poco cagare. Ma sai, mi dispiace, perché a vederlo sembra poco buono. No, frate. No, è il maiale. Spero di non aver preso nient'altro con il maiale, perché non mi piace proprio. Non ti fa fastidio il maiale, frate, nel tocco di grasso. Fastidio no, però non mi dice niente, cioè, non lo continuerei a mangiare, cioè. Se forse questa è la cosa peggiore come mangiare al mecca. Chiedo scusa per avervi fatto vedere qualcosa che non mi è poco piaciuto. Next panino. Questo è il samurai, se non sbaglio. Questo era il beef. Se il samurai. Una grassa super zuccherata, questa mi sembra. Sempre maiale, però non fa schifo. Come maiale? Perché ne giuro, noi avevamo cliccato beef. È burger, ma non è beef, vedi. Decente. C'è un po' troppo di maionese. Non è a livello di un cheeseburger italiano. Cioè, cheeseburger in Italia è più buono. Allora, ti dirò una cosa, prima che cominci a mangiare il tuo paninetto. E prima di passare al traffol, tu lo sai quando viaggi, anche in Tailandia o in altri posti in Europa o in giro? A me tanti siti, non li apre. Io lo risolvo ogni volta con NordVPN. Cambia la tua già localizzazione, quindi da qui mi sono riportato a Milano o a Roma, perché comunque noi abbiamo i Serbi in Italia, sia a Roma che a Milano. Quindi c'è sempre copertura per NordVPN, sia in Italia che all'estero, perché i Serbi sono o comunque nel mondo, è comunque la VPN più grande nel mondo. E la cosa interessante è sbloccare questi siti. Anche TikTok, che tante volte tu rosi dici, minchia, voglio pubblicare su TikTok, non puoi farlo. Oltre alla cyber security, che nel 2028 mi sembra una delle cose più fondamentali del mondo. E ricordati che il link in descrizione, se ci vai, è l'unico modo per ottenere 4 mesi gratuiti. Tome tutte le info qua sotto. Vai, assaggia il tuo panino. È una cifra di maionese. Sì, sì, è una cifra. Rispetto a quello, anni luce avanti, eh. Sì, sì. Beh, che ho fatto al pollo, cioè, fly down. Lo stai potenziando? Per me manca un po' di sapore. Sì, è vero. Senti troppo a maionese, quindi se no, è più buono. Eh, vabbè. Allora, io proverei questo, per esempio, tutto. Ah, sciacquata un po' la bocca con il riso e il polletto fritto. Il riso è buocco, te. Allora, io posso dire una cosa comunque, vai. Il pollo è la cosa più buona del mondo, come lo cucino, cucina è buono. Fritto, è un fritto bollito, la piace. Sul pollo concordo, sul riso, in bianco, un po' meno. Un bello sciapo. Ah, come ci piace a noi. Nemmeno un goccetto di olio, sale. Però non è, almeno non è tipo stranto. Allora, togliamo. Vedo, vedo. Come è sto bolletto? Piccante? È proprio tailandese, però. Pizzicare la cifra, tra poco ti vedrò proprio godere. Stessa salsa. Ok. Questo riso. Ok. Con del pollo non fritto, potrebbe essere tranquillamente una hit. Andate con il posto in cui mangiare tutti i giorni. Allora, io te lo dico. No, no, prendi un po' di... No, 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 no. La salsa la pita, no, no. Prendi quello con la salsa, non con la salsa. Che lo piscialla. Vai, vai. Prendici un po' di riso. Così ha smorza il piccante. Godete, ragazzi. Preparatevi alla reaction di Leo. Prendi subito un altro, subito un altro collo. Vai, vai. Con un po' di sal... Vai, vai. Butta dietro, butta dietro, dietro, butta dietro, dietro, vai. E poi godiamo. Questa la tengo io. Vodo. Questa pizzica. Godilo, godilo. Vivi l'esperienza, vivi l'esperienza. No, no, no. Perché i nuggets sono poco spicy, i crispy McBellon è poco spicy. Buu. Almeno non mi piace il piccante. Io ve lo dico, vorrei fare un episodio del McDonald a Dubai, negli Emirati Arabi. Lasciate like, commentate con McDonald Dubai o McDonald Cina, perché nel prossimo viaggio potrei portarti o al McDonald di Dubai o al McDonald di Cina. Non mangio il piccante, eh? Eh, non lo so. Sono così. Questa è il Trafford Burger. Beh, ok, una cosa normale, finalmente. Una cosa normale, ma con secchio di chiamare tartufo, guarda. Ti posso dire, di questo mi fido. Sai che l'odore c'è? C'è anche un sentone di tartufo, comunque è un ottimo panino, che noi non abbiamo. Cioè, secondo me non può sbagliare se non sbaglia sul tartufo. Normale cheeseburger. La salsa. San leggimento di tartufo, tanto di fungo. C'è il tartufo, ma c'è un po' troppa maionese. E provalo. Non è malissimo, eh, potrebbe essere una svolta con una crema fatta bene, che poi non serve una crema con tartufo da madonna. Però mi non dispiacca, eh. Non è male questo. Questo forse è il miglior panino. Cioè, questo lo riordinerei. Sì, tipo un altro lo prenderò tranquillamente. Comunque, 7,5 su 10. Ma la mia domanda è per te. Sti cazzo a zitti qua, che sono? Non lo so. Non ne ho idea. E questa. Allora, vabbè, sono plain. Ovviamente super fritti. L'impasto. Vuoto? Non lievitato. Fretto. Infine, quando fa una pastella fritta, ci mettiamo da sopra. Ah, sì, la facciamo in nonna. Esatto. Vabbè, non possono essere malissimo, secondo me. Pastella fritta, schifo, proprio non può fare. Poi magari ne è buono. È un ottimo dolce. Un'ottima conclusione. Ci abbiamo ancora questa, eh. Ci abbiamo ancora lei, eh. Facci godere, dai. Non ci abbondà troppo. Non esagera. Non è male, eh. Buono. Ultimo. Ma non per importanza. La nostra paidi. Questo quando vedrà il video da Memli. Impazzita. Ma che lento. La bossetta di Ello Kitty, non me l'hai presa. Plassica tortilla del McDonald's. Bella oleata. Ma che roba è? Non è formaggio, però. Ma non mi sembra proprio formaggio. Se c'è il dalmadio. Magari ci sta bene, che ne sai. Ma io mi chiedo, perché mettono il formaggio nei dolci? Cioè, dalla parte è super zuccherato. Dall'altro c'è un rete gusto proprio amarognolo. Tipo quando... Come ti lascia l'amaretto, no? Tipo come se fosse un amaretto scaduto. Ok, l'amaretto che non ti piace, però. A me piace l'amaretto. No, questo dico l'amaretto che non... L'amaretto che non ti piace. Guarda. Cioè, dicevo che la pastella intorno è bella croccante. Super zuccherata, eh. Però dentro... Eh, sì. Te lascia tipo... Eh, tipo pasta di mandorla dentro. Sì. La cosa bella del McDonald's a Bangkok, posso dire ufficialmente che ho trovato uno dei cibi migliori del McDonald's, cioè col pollo fritto, ma anche uno dei peggiori. Il panino col maiale. Il panino col maiale era il peggiore, mentre il pollo fritto era uno dei migliori. Quindi sono anche soddisfatto. Comunque c'è... Che figa, è tutta una food court gigantesca fino in fondo. Continuiamo a esplorare, che dopo andiamo al Burger King, molto più tardi, dopo la palestra. Piccolissima scena extra, siamo venuti a fare una bella passeggiata alla Jim Thompson House Museum. Ci sta un sacco di gente e abbiamo scoperto che nel fiumiciatto per venire qui ci sono un sacco di draghi di Komodo. Io vorrei farti notare che siamo circondati da Nerva. No, ma noi non vi diamo più tranquilli. Avete visto l'altro video, il primo in cui siamo venuti in Thailandia? Non ci sentiamo molto al nostro agio a girare con i draghi di Komodo che girano per strada, ecco. Diciamo che dobbiamo ancora abituarci a questa sensazione. Non penso che mi abituirà mai. Allora, abbiamo preso i biglietti per il giardino. Non so, qualcosa come 200 sono. 5 ore in 2, 2 ore e 5 da testa. Per entrare. Questo qui è una... E io guardo per te che non so se c'è stato draghi di Komodo e mi cago addosso, fatemi. C'è una paura a passare qua in mezzo, zio. Oddio. Paura. Ti odio. Allora, si spaventa facilmente. Questo è un problema di Leo. Non è che si spaventa facilmente, ci sono i draghi, cioè nel senso... Guarda che carino, sembra un giardino zen giapponese. Ok. Non ne hai messo la cura. È consigliato. Bentornati, sono passati un pochino di ore. Siamo stati di qualcosa come 4 ore e mezza in palestra tra video e allenamento. Ma è arrivato il momento. Mo' se panna al Burger King. Parliamo di una cosa importante. Sapete quanti di voi mi hanno mandato questa foto? Questa foto qua. Cioè il fatto che esista questo panino. Credo sia stato fatto per un periodo al Burger King, ma ad ora non è più disponibile. Ma noi possiamo decidere di fare un panino come vogliamo. Faccio esempio, no? Prendo questo. Io quando ho questo maes. Questo no, vabbè. Ah, l'hai tolto, Fra, l'hai tolto, eh? Quello c'è, quello c'è. E facciamo il panino che hanno... Tanti, posso dire, se non ce lo tolgo, non lo togliamo noi il pesce. Togliamolo il pesce. Detto questo, passiamo al menù. Il loro angus truffle. Vediamo se è più buono di quello del McDonald's. Qui troviamo i piatti con pollo e riso. No, ce l'abbiamo le hash brown in Italia. No, non ce l'abbiamo le hash brown. Ovviamente con il dolce prendiamo il taro cornfire. Però forse è un fried chicken. Questo non ce l'abbiamo adesso. Questo è veramente bello. Vai, ci siamo. Qui ce l'hanno con il piccante qua, eh. Sono 30 euro rispetto ai 20 euro. Ok. Allora, dirò signore, è un mattone. Voilà. Senti quanto è stato. Greve. La pietà di tutto, passiamo alla nostra sauce. Che salsa è? Una teriaghi strana. Non sa di teriaghi. È dolce, cioè è molto zuccherato, mi sa. Allora, questa è una cosa figa perché in Thailand il Burger King e il McDonald's hanno dei piatti loro, capito? Il riso con il pollo fritto, insomma, sta roba qua. E io sono il hash brown stavolta. Adesso, posso dire, il riso bianco qua è buono. Cioè, qua è buono pure il riso bianco. Questo non è quello del Mac che era hash brown. No, quello è fatto proprio bene. Ma quello è poco. Ah, di nuovo, ma così mi freghi sempre. Ma se è troppo piccante pure questo, sto video non mi sta piacendo. Un po' piccantino, eh. Un po' tanto piccantino, zio. Sono i piccoli hash brown che mettiamo nella salsetta. Che cos'è l'hash brown? La frittatina, la... Le patate fritte. Le patate fritte così? Come ti lo spiego? La frittatina di patate. Non sa di patata. Non sa di patata. Sono solo esclusivamente di fritto. Cioè, senti. Fritto puro. No, forse c'è un retro gusto di patata. Ma loro... La crocchettina proprio che... Che è passata lontana. È passata da salutare se n'è andata. Qui abbiamo il yum yum chicken. Dobbiamo fare il paragone con quello di oggi. Oh, questo... Allora, non è spicy però, vero? Non può essere così piccolo e così pesante. Non ho mai sentito un cibo così piccolo. È piumbo, fratello. Penso per farlo capire. Tè, pesa. Non so come è possibile. Oh! È duro? Picantissimo. Piccante? La cifra. Porca puttana. Ti posso dire, sti te nandesi hanno rotto a mettere piccante comunque. Cioè, non c'è scritto spicy. Perché mi metti piccante? Fratello, c'è il lime dentro. C'è del lime. Non so se sono scorze di limone, ma... È veramente buono. Non può essere così piccante. No, allora io non ci vedo che qualcuno mangia sto coso. Allora, io resisto a dare piccante. Io te lo aiuto a te. Sei morto già. Lo dico, sei morto. Ti sta incominciando a divertire e a farmi mangiare troppo piccante. Io te lo dico, eh. No, no, più grosso è il morso. Che sta a fare? Che sta a scherzare? Oh, me devo mangiare la lingua d'uomo? No, non sa più che mi sta bruciando la bocca a me. No, però non bevi, dai, soffi. Ma senti il lime, che buono. No, sento solamente piccante. Ninja pork burger. Perché io mi metto il maiale? Con della cipolla fritta, fritta, fritta. E il brutto aspetto. Sicuro è più buono di quello d'oggi del me. Non può essere peggio di quello. Occupare. Eh? Occupare. Fa cagare, eh. Mangiabile. Peggio di quello di me? No. Il tocco del maionese, credo, con del maiale, ma proprio... No, è mangiabile, vede. Scusa, ma è pork, no? Eh sì, è pork, è maiale. Tu ti piace? No, non sa di niente, cioè... No, no. Questo lasciamo per ultimo il tocco di formaggio, eh? Sì, 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 no, lui è il king, ma... Questo è quello che mi mette più curiosità. Costa quasi 10 euro, qua, eh. Comunque posso dire una cosa. Odori d'artufo c'è. Questo costa un po' di più di quello del mac di oggi. Anche qui è il platino più costoso. Sicchie di formaggio, funky champignon, che è martartufo. Però pare carino. Frate, ma sembra poco buono con la carne angos. Ti anticipo che potrebbe essere veramente troppo buono. Dimmi che ti sta ponendo la bocca da quel pollo piccantissimo. È molto, molto cremoso. Anche il pane morbido. La carne è super morbida, guarda. Viene dal centro. Vedi quanta cremina c'è. Sia il formaggio fuso, la carne... È molto succoso. Posso dare un consiglio? Dovolo col formaggio. Questo lo lasciamo per ultimo. Tanto è ancora caldo, lo lasciamo dentro. Lo minimo dopo. Sì, perché questo è veramente buono. Un buon panino di funghi, formaggioso. Senti, anche bene la carne. Eh sì, perché è angus. Arriviamo all'ultimo panino. Siete contenti, a papà. È proprio quello, comunque. Guarda, per la scienza. Ma cosa è appiccicato, guarda. Ok, questo ce lo mangiamo a parte. Ok, l'abbiamo tolto. Come il pesce del Burger King. Ma sono giro che il dos. Sei pronto a assaggiare senza salsa, senza un cacchio? Solo formaggio. Vomito, sbratto sicuro. Lo sai che ti sento l'eranto adottorio, eh? Cioè, te lo vorrei ricordare. Eh, riscaldi. Guarda quanto ti allarga la bocca, vabbè. Allarga tutto. Vai a mamma. Ti dirò. Ti dirò. È manco male, eh. È cheddar, franco. Come fa essere male? È buono. Ma che cazzo non sai? Come fa essere buono tutto? È schifo. È cheddar. Tu non sai che non dite del formaggio. Ma sai che è buono? Ma sai che è il più piacevole? È buonosì, è tutto cheddar. Io mi aspettavo lo stucassi, invece sentite che buona la salsetta qua. È formaggio, devi essere un degustatore per mangiare questo. È buono? Ahah. Vorrei un po' di salsa, grazie. Però ti toglie il piccante dalla bocca. Tutto questo video è la cosa più buona. Dopo il pollo fritto. Del McDonald's questo. E questo qua. No, tutti e due sono più buone. Ma frate, come fa essere buono? Spiegami come è possibile che nella mia bocca ci sia un sapore buono. Il cheddar, se tu te lo tagli a pezzetti, è molto buono. La magia del cheddar. La magia deve pure che figgi, ragazzi. Mi ce l'avete mandato voi in Ternanda questa cosa, eh? Cioè, questa mi ce l'avete mandato voi. Quindi ricordate che su Instagram, quando mi mandate il cibo, le cose particolari del mondo, le novità, le collaborazioni, io prendo l'aria e parto. Sono pazzo, mi porto pure amici e mi porto. Se non merita un like questo, l'iscrizione, un bel commento, non so cosa lo meriti. Oggi è una giornata bella, oggi sono felice. Mi voglio bene a tutti. A te, da dietro e a voi che stanno a partire. E dopo le 14.000 calorie di quello, prendiamo la taro pie. Madonna quant'è fritta, padre. È più grossa di quella di oggi, eh? È dura forte, eh? Sarà contento il dentista. Allora, quella a pranzo era immangiabile. No, è buona. Non è mai. Caldo, buono, è rimasto caldissimo. Quello del Mac? Non me lo avete buono. Ok. Oggi il Burger King sono venuto stupito, eh? Oggi mi ha fatto stupire il Burger King, eh? Credo che il bello di questo format sia non solo che vi faccio scoprire le varianti di quali cose che abbiamo tutti i giorni sotto casa. Infatti, la cosa che adoro è che se vado in un paese nuovo, voi sarete sempre lì con me sapendo che insieme proveremo il Mac o il Burger King. Grazie davvero a tutti del supporto che mi state dando, anche nei periodi difficili, riusciamo sempre a strapparci un sorriso a vicenda. Vi ricordo anche che è il momento con la migliore offerta per provare NordVPN, perché viaggiare è un piacere, ma è ancora più grande quando lo si fa in sicurezza. Noi ci vediamo nel prossimo video e non scordatevi di iscrivervi, tanto è gratis. Ciao!